per fare un panino al prosciutto io parto da una situazione così ho un panino che in questo momento è congelato io congelo il pane perché così dura più a lungo con un coltello tagliente vedi la lama taglio in due parti il panino senza tagliarmi dopo averlo tagliato a metà mettilo su un attimo da parte io assieme al prosciutto ho deciso di utilizzare un formaggio filante ovvero sto tagliando un po di scamorza questa è la scamorza dolce le fettine che ho ottenuto le metto tutte su una fetta di pane ovviamente la quantità di scamorza e prosciutto varia dal vostro gusto personale dalla forma del pane comunque io utilizzo questo prosciutto a fette poi dopo aver preso ad occhio le dimensioni del panino chiudendolo devi aprirlo di nuovo e metterlo su una griglia forno in modo che la parte con soprattutto il formaggio rimanga sopra dritta insomma riduci le possibilità che una volta che la scamorza si scioglie scivola via dal panino il panino lo devi infornare in forno preriscaldato già ben caldo con il forno ventilato per circa 4 minuti a 200 gradi il panino avrà tutto il tempo per scongelarsi e soprattutto la scamorza si deve sciogliere donando al panino la filantezza e contemporaneamente il panino sarà anche croccante questa ricetta l'ho applicata anche in maniera molto simile con il pan focaccia ed è buona fai passo un altro mio video per vedere un altro video ciao